Entro il mese di maggio sarà completato il collaudo dell'asse viario principale sull'SP2 tra Andrea e Montegrosso. Slitte ha di qualche settimana la riapertura del tratto già rimodernato che attualmente si percorre sulle complanari completamente disastrate. La fine delle attività di collaudo erano previste entro il mese di aprile come annunciato a margine di un incontro a inizio mese in prefettura ma alcune ulteriori lungaggini burocratiche hanno fatto posticipare il via libera definitivo alla riapertura dei circa 9 chilometri già completati tra la città federiciana e la borgata. L'accesso a Montegrosso è il vero nodo di una vicenda che ormai si trascina da anni e cioè da quando sono partiti i lavori circa sei anni fa. Al momento l'accesso ad uno dei borghi inserito tra i più belli d'Italia e tra quelli della salute sarà assicurato direttamente dalla rotatoria che resta però una soluzione provvisoria dopo la riapertura del tratto più consistente della strada modernata resteranno 500 i metri veri e propri di cantiere. Qui i lavori dovrebbero continuare in attesa di completare la progettazione e l'acquisizione di finanziamento regionale della soluzione alternativa di accesso al borgo. Nel frattempo però percorrere quell'arteria è sempre più complesso, le complanari restano disastrate e difficilissime da utilizzare a causa delle profonde e insidiose buche mai realmente sistemate. Le stesse complanari saranno tra gli interventi di completamento delle opere subito dopo la riapertura del tratto principale che si spera possa avvenire entro maggio e non oltre il rischio e il procrastinare una situazione di grande pericolo per gli automobilisti.